Ah, stupido maiale, come ti permetti di stare là dentro? Non puoi stare là dentro, vieni subito qua, adesso basta, ti uccido Cosa? No, perché? 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 Stai scherzando? Stai scherzando? No, 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 no Eh, no, come faccio? Come si fa? Come si fa? No, 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 stai scherzando, ma perché hai spavolato? Dai, ho solamente ucciso maiale, accidenti a voi, ma è possibile? Ma è possibile? No, mi sta distruggendo tutto il villaggio, porca miseria, devo fare qualcosa, tunisiani, dobbiamo fare qualcosa immediatamente, non è possibile, non possiamo lasciarlo qua a distruggere il villaggio Guarda, no, sta distruggendo tutto, sta distruggendo tutto, oh, porca miseria, porca miseria, porca miseria, dai, perché? Accidenti, no, 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 dobbiamo, dobbiamo attuare immediatamente un piano Come facciamo? Come facciamo a distruggerlo? Come facciamo a distruggerlo? Cerchiamo di salire in questa chiesa, cerchiamo di sfruttare tutto quello che abbiamo, ok? Ok, adesso spacco qua fuori, facciamo così, saliamo, già lui sta spaccando tutto, quindi eccolo qua, eccolo qua, signo, è Wither Lo possiamo uccidere, lo possiamo uccidere, accidenti, ok, 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 ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo Oh no, è là, peggio di così non potrebbe andare Oh mio Dio, stai scherzando, stai scherzando, ho appena detto che è peggio di così non potrebbe andare C'è sia un Ender Dragon, c'è un Wither nel mio villaggio, povero, no, brutto schifo, non è possibile, ma porca miseria Come facciamo ad ucciderli io? Questi villager non sanno fare un cavolo, sanno solo morire adesso, ecco E ma io come faccio ad ucciderli? Me lo spiegate, no, dunisiani, non riesco a fare niente Allora, cerchiamo di uccidere l'Ender Dragon almeno, proviamoci, proviamoci Vieni qua, io sto rincorrendo un Ender Dragon, non è possibile, cioè vi rendete conto di quello che stiamo facendo? Stiamo letteralmente rincorrendo un Ender Dragon, stiamo facendo il balletto dell'Ender Dragon Guardate, e ballo su, e ballo giù, e ballo... Mi sta fac... no, 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 no Ma poi è stupido perché continua a volare là sotto È stupido, è stupido Come facciamo a fermarlo? Io non posso permettere che distruggano altro Per fortuna che sono caduto nell'acqua, mamma mia, per fortuna Oddio, 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 no, dunisiani, questa cosa è impossibile Allora, cerchiamo di distruggerlo immediatamente, non possiamo lasciarlo vincere così Cioè, sono fuori di testa questi qua, ho solamente ucciso un maiale, non è che mica ho fatto nient'altro Non prende danno, non prende danno, guardate, guardate, non sta prendendo danno Io lo sto picchiando, non sta prendendo danno Invoco la mia potenza di creatività O voi creature che esistete in questo mondo Non potete distruggere qualcos'altro Non potete venire qua a fare i vostri, i vostri comodi Io Con i poteri a me conferitomi Vi dichiaro Uccisi Aaaaaah Ora sono solo un povero fantasma che viaggia in questo mondo Anche se sono morto però, il villaggio è salvo I villager sono al protetto E... Basta Ender Dragon e basta Wither Per favore, non li voglio più vedere in questo mondo Basta, basta, io me ne vado nell'altro mondo Addio villaggio Basta, basta, io me ne vado nell'altro mondo